Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. Un nuovo rumor sta scatenando l'interesse sulla possibile svolta romantica nella vita del tennista al tuatesino, attualmente numero uno al mondo. Da mesi, la sua relazione con la fidanzata Anna è sotto i riflettori, e tutto sembra andare per il meglio, ora, però, alcune voci sostengono che durante un recente evento a New York, i due si siano lasciati trascinare dal romanticismo. La coppia, sempre più affiatata, si sostiene a vicenda sia dentro che fuori dal campo, e i fan non hanno potuto fare a meno di vederli come la coppia perfetta. Tanto che negli ultimi giorni si parla di una possibile proposta di matrimonio. Secondo un'indiscrezione, Yannick avrebbe sussurrato dolcemente all'orecchio di Anna, e se per evitare tutto questo ti chiedessi di sposarmi? Lei, sorpresa ma entusiasta, avrebbe risposto, ti direi di sì, nonostante questa proposta non convenzionale, sembra che ci siano tutti i presupposti per una richiesta ufficiale. Al momento, non ci sono conferme ufficiali dai diretti interessati, ma le foto della coppia, sempre affiatata e in sintonia, alimentano le speculazioni. E voi, cosa ne pensate, siamo forse davanti al matrimonio dell'anno? I fan lo sperano. Ricordate di iscrivervi al canale, attivate le notifiche per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore.